benvenuti in una nuova lezione di italiano per tutti questa è la lezione dedicata ai modi di dire alle espressioni idiomatiche andiamo a vedere in questa lezione i modi di dire con metalli con i metalli più importanti l'oro l'argento il ferro il bronzo e ovviamente ad ogni metallo si attribuisce un certo un certo una certa caratteristica che andiamo a scoprire insieme andiamo subito e immediatamente alla prima slide insieme espressioni idiomatiche cosa sono nella lingua italiana esistono molte espressioni idiomatiche si tratta di frasi fatte e modi di dire che hanno un significato diverso da quello letterale il significato figurato non è sempre di facile intuizione per chi non conosce bene la lingua queste espressioni sono molto usate nel linguaggio parlato e il modo migliore per impararle è da un insegnante madrelingua in questi video vedremo alcune espressioni idiomatiche che utilizzano i nomi dei metalli di metalli come oro come dicevo prima argento bronzo ferro e così via andiamo subito alla slide dove iniziamo il nostro elenco di espressioni idiomatiche con i metalli oro sogni d'oro sogni d'oro augurio di fare un buon sonno sogni d'oro quello che è oro è qualcosa che è prezioso che luccica che brillante che si augura ovviamente a qualcuno che siano i sogni che sia qualcos'altro comunque è tutto bello quello che brilla come loro quindi sogni d'oro significa dormi bene fai un buon sonno riposati perché ne hai bisogno buonanotte e sogni d'oro quindi buonanotte dormi bene a peso d'oro a peso detto di qualcosa che si paga ad un prezzo elevato pagato quella cosa peso d'oro come se avessi dovuto veramente avere dell'oro in mano comprare dell'oro prima di pagarla o pagarla con l'oro questo mobile è bello ma lo abbiamo pagato a peso d'oro veramente è costato un'esagerazione questo mobile pagato a peso d'oro nuotare nell'oro essere molto ricchi avere molto denaro nuotare nell'oro immaginate qualcuno che ha una villa splendida e ha una piscina piena di oro e nuota nell'oro comunque è figurato ovviamente questo è un modo di vedere perché ovviamente le immagini associare a delle espressioni le immagini è molto importante quindi io quando penso a nuotare nell'oro mi viene in mente zio paperone che nuota nell'oro o nei suoi o nelle sue banconote o nelle sue sue monete e significa che è molto ricco che ha molto denaro non posso permettermi quell'auto io non nuoto nell'oro per tutto l'oro del mondo significa per nessun motivo a nessun costo faccio qualcosa per tutto non lo faccio per tutto l'oro del mondo quindi andiamo a vedere l'esempio perché è molto importante amo il mio lavoro mi piace il mio lavoro non lo cambierei per tutto l'oro del mondo quindi qualsiasi cosa mi diano tutto l'oro del mondo io non vado a cambiare il mio lavoro perché mi piace veramente tanto vale tanto oro quanto pesa si dice di una persona che ha molte buone qualità vale tanto oro quanto pesa anna è proprio una brava ragazza vale tanto oro quanto pesa vuol dire che l'oro come abbiamo detto prima è un metallo prezioso per eccellenza quindi vale tantissimo a un valore pari a quello che pesa ovviamente è un modo di dire proprio per enfatizzare che è proprio una brava ragazza e vale tantissimo periodo d'oro il periodo d'oro è il periodo più produttivo o fortunato di un personaggio il suo periodo d'oro quindi è stato quando ha avuto quel successo particolare o un'azienda o un'impresa o un personaggio di un cantante un personaggio del mondo dell'arte il suo periodo d'oro il suo periodo migliore in cui ha prodotto i suoi le sue opere migliori e infatti ecco che andiamo a parlare di pinturicchio a pinturicchio ha dipinto questo affresco nel suo periodo d'oro nel suo periodo in cui aveva le migliori idee e ovviamente ha prodotto i migliori i migliori dipinti ovviamente questa qui è un'espressione importante sia per gli artisti come dicevo ma per tante altre cose per tante altre situazioni avere un cuore d'oro essere una persona buona generosa quando il cuore è d'oro significa che sia sia buoni come persona quando sia generosi sia disponibili verso gli altri e l'esempio importante perché dice gianna mi aiuta sempre quando ho bisogno a un cuore d'oro una miniera d'oro ecco quando si arriva alla miniera d'oro significa che si può avere tutto l'oro che si vuole perché è la miniera quindi in quel momento lì si può scavare si può raggiungere il massimo risultato detto di qualcosa che procura molta ricchezza quella cosa lì è una miniera d'oro la tua il tuo ristorante è una miniera d'oro perché lavori tantissimo produci tantissimo hai aperto un'altra zona un'altra area eccetera eccetera adesso in questo caso qua l'esempio parla dell'azienda l'azienda di paola era in fallimento adesso è una miniera d'oro quindi è cresciuta è cambiato completamente diciamo aspetto e è assolutamente adesso una miniera d'oro perché sta facendo veramente ricchezza lei e tutta la sua famiglia e tutti quelli che lavorano da lei parole d'oro serve per commentare parole piene di saggezza quando qualcuno ha parola pronunciato ha detto parole d'oro significa che era una frase importante o un discorso importante che conteneva saggezza che conteneva qualche cosa di utile per crescere interiormente ovviamente anche nel nostro percorso di vita un bicchiere di vino rosso fa bene alla salute questo ovviamente molto importante si dice parole d'oro quindi sono parole importanti sono parole preziose prendere per oro colato considerare veritiero qualcosa che ci viene detto senza il minimo dubbio senza verificarlo quindi qualcuno mi dice qualcosa io lo prendo per vero veritiero lo prendo per per valido qualcosa di comunque che si può considerare veritiero senza averlo analizzato prima senza averlo considerato l'ho preso per oro colato in realtà dietro c'è qualcosa che che qualcosa che non funziona quindi quello quello che mi è stato detto in realtà non è tanto non è tanto veritiero l'esempio è non credere sempre a tutto quello che ti dicono non devi prendere tutto per oro colato non credere non prendere per oro colato è un'espressione molto usata tutte queste qui sono espressioni molto usate le nozze d'oro le nozze d'oro in italia come probabilmente anche in altri paesi sono il cinquantesimo anniversario di matrimonio le nozze d'oro domani è l'anniversario dei miei genitori festeggiano le nozze d'oro quindi i miei genitori festeggiano le nozze d'oro ed è il loro anniversario il cinquantesimo anniversario di matrimonio poi ogni ogni decennio al suo diciamo materiale ecco diamante argento eccetera eccetera adesso non le ricordo bene però è abbastanza importante il cinquantesimo perché sono le nozze d'oro le nozze da eccolo qua le nozze d'argento ad esempio abbiamo cambiato metallo siamo passati dall'oro all'argento sono il venticinquesimo anniversario di matrimonio io e mia moglie ci siamo sposati 25 anni fa quest'anno festeggiamo le nozze d'argento le nozze d'argento sono i 25 anni avere l'argento vivo addosso essere molto agitati e non riuscire a stare fermi ad esempio si dice dei bambini molto vivaci l'argento vivo in particolare è il mercurio non è argento il mercurio essendo un metallo liquido alla temperatura normale in cui viviamo se l'avete mai notato quello che sta dentro i termometri di solito i vecchi termometri se non l'avete mai visto notato il mercurio è formato da piccole palline argentate che si muovono in modo diciamo non coordinato quindi è difficile tenere il mercurio insieme le palline non si fondono insieme semplicemente comodamente come come la fa l'acqua e quindi rimangono tutte queste palline che si muovono molto rapidamente sono palline di mercurio che si chiama anche argento vivo e quando si dice che i bambini hanno un argento vivo addosso significa che sono scatenati che sono bambini che non si riescono a tenere che scappano sotto il tavolo che si nascondono quindi il bambino con l'argento vivo è il bambino diciamo incontenibile in qualche modo l'esempio è ma cosa c'è hai l'argento vivo addosso stai un po' tranquillo si dice ovviamente questa è un'espressione tipica che si ha verso dei bambini che sono molto agitati ecco il loro modo di fare da bambini come quando si era bambini eravamo molto agitati molto irrequieti molto avevamo la voglia di scoprire di correre servire su un piatto d'argento invece vuol dire fornire qualcosa a qualcuno senza che faccia il minimo sforzo per ottenerla si usa in senso figurato quando gli quando qualcuno serve qualcos'altro qualcosa su un piatto d'argento viene in mente il servo no il cameriere il maggiordomo che serve qualcosa che serve un tè che serve il pranzo quello che è su un piatto d'argento ovviamente la persona che riceve quel qualcosa non fa il minimo sforzo non si muove non ha bisogno di muoversi perché ovviamente lui è quello ricco quindi quello paga quel che paga diciamo il servitore in questo caso ma è un modo di dire figurato in questo in questa nostra realtà e l'esempio ce lo descrive bene la nostra squadra ha sbagliato un rigore e ha servito agli avversari la vittoria su un piatto d'argento quindi loro non hanno fatto sforzo sono stati fermi o comunque hanno giocato una partita come dovevano senza fare uno sforzo ulteriore perché la nostra squadra sbagliando il rigore ha servito la vittoria agli avversari su un piatto d'argento è anche questa abbastanza usata sì sì toccare ferro toccare ferro si è un è un gesto è riferito al gesto scaramantico per allontanare la fortuna quando si usa spesso molto forse più da piccoli quando era il momento dell'interrogazione si andava si era scuola quindi l'insegnante stava estraendo chi interroga oggi allora si toccava al banco si toccava ferro si toccava qualsiasi cosa per non farsi ovviamente interrogare o in altre situazioni però toccare ferro normalmente nell'italia è riferito a toccare qualcosa per metallo ferro in questo caso per allontanare la sfortuna il più possibile ed è comunque molto usato in modo ovviamente non non fisico non reale proprio del toccare ferro ma anche semplicemente come nell'esempio come dire se domani non piove possiamo andare al lago tocchiamo ferro quindi speriamo con tutte le nostre forze che non piova tocchiamo ferro facciamo questo metaforicamente questo gesto scaramantico per poter andare al lago domani per poter fare in modo che sia una bella giornata in altri paesi non c'è il ferro ecco in altri paesi nordici ad esempio si dice toccare legno è un altro modo di vedere i metalli e gli oggetti e i materiali però in italia e probabilmente anche in altri paesi si usa solo toccare ferro toccare legno in italia non ha non ha non ha un senso mettere a ferro e fuoco mettere a ferro fuoco significa saccheggiare distruggere una città un paese una comunità ed è ovviamente molto utilizzato quando si parla di storia e questo un esempio che che appunto riferito alla storia nel 387 avanti cristo roma fu messa ferro e fuoco dai galli non è più un'espressione che si usa oggi come oggi a meno che vogliamo diciamo questa è molto fisica molto reale il fatto che venisse messo a for a ferro e fuoco roma dai galli è proprio una guerra è proprio un'attività fisica se vogliamo oggi lo possiamo utilizzare un po come 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 metafora però non è più tanto utilizzato il giorno d'oggi è un'espressione utilizzata quando si parla di storia ovviamente essere in una botte di ferro essere in una botte di ferro significa essere una posizione sicura essere protetti immaginatevi di chiudervi in una botte di ferro completamente ovviamente qualsiasi cosa vi colpisca siete protetti da questa botte di ferro ed è anche questo è metaforico è un modo di dire che si è in qualche modo protetti ma ad esempio in situazioni particolari come l'esempio che abbiamo qui non preoccuparti per la neve con questi pneumatici invernali sei in una botte di ferro vuol dire puoi stare tranquillissimo non hai problemi pneumatici invernali non ti fanno slittare la macchina sei in una botte di ferro battere il ferro finché è caldo battere il ferro finché è caldo è esattamente l'espressione che si riferisce al fabbro quando sta battendo sul ferro che ovviamente va a modellare perché l'ha fatto scaldare è incandescente il ferro ed è caldo e quindi è malleabile è deformabile quando è caldo comodamente quando poi si raffredda bisogna picchiare più forte perché ovviamente bisogna dargli più energia perché raffrendandosi il ferro o qualsiasi metallo similare si indurisce quindi è meno modificabile questa qui ovviamente un'espressione metaforica e la sua descrizione è sfruttare una situazione favorevole quando il ferro è caldo è favorevole perché è malleabile insistere finché le circostanze lo permettono quindi continua così finché è caldo finché il ferro è caldo e l'esempio è visto che c'è stato proprio sanremo questa settimana abbiamo messo l'esempio giusto è ora che hai vinto sanremo devi pensare a pubblicare subito un nuovo disco devi battere il ferro finché è caldo devi battere il ferro cioè devi pubblicare il disco finché sei sulla cresta dell'onda ecco qui perché il tuo nome sta circolando in media lo fanno circolare e ovviamente è il momento tuo è il momento importante è il tuo periodo d'oro eccolo chiamiamolo così riferito all'espressione di prima avere una memoria di ferro avere una buona memoria mia nonna quasi 90 anni ma ancora una memoria di ferro quindi significa che si ricorda tutto a una buona memoria nonostante la sua età e questo ovviamente molto semplice ma anche molto usato la cortina di ferro la cortina di ferro così era chiamato il confine lo vediamo nella foto qua sopra tra il confine fra il rosso e la zona rossa e la zona la zona blu era così chiamato il confine che al termine della seconda guerra mondiale divideva l'europa in due zone una sotto l'influenza degli stati uniti quella blu e l'altra dell'unione sovietica quella rossa con il muro di berlino è caduta anche la cortina di ferro è caduta anche diciamo quella separazione netta fra le due europe che ovviamente erano non in qualche modo influenzate dalle politiche di due paesi grandi e importanti ovviamente come gli stati uniti l'unione sovietica e ovviamente questo è l'esempio che ovviamente l'abbiamo fatto perché cortina di ferro visto che il materiale però non viene più molto usato viene usato in termini storici per ricordare che quando si parla del periodo del muro di berlino e della ovviamente della divisione dell'europa si va a riferirsi come cortina di ferro quel confine particolare che divideva l'europa il braccio di ferro è lo sport nel quale si cerca di abbattere l'avambraccio dell'avversario in senso figurato è una prova di forza quindi il braccio di ferro è lo sport in cui si va ad abbattere a tirare giù il braccio della persona con la quale che si sta sfidando e ovviamente oltre che essere uno sport vero e proprio fisico è anche un senso metaforico un senso figurato e cioè una prova di forza infatti l'esempio lo descrive perfettamente tutte le mattine in ufficio in ufficio devo assistere al braccio di ferro fra il presidente e il direttore ovviamente non stanno facendo braccio di ferro presidente direttore è un modo di dire che c'è sempre una continua sfida fra i due c'è sempre una una rivalità una continua rivalità nella riuscire a diciamo in qualche modo a prevalere l'uno sull'altro ed è un braccio di ferro perché normalmente uno sport che lascia in qualche modo un'attesa è uno sport piuttosto lungo diciamo un modo di dire perché non è un qualcosa che si risolve immediatamente c'è sempre una posizione di vantaggio di svantaggio continua e questo è solitamente il modo di vedere il braccio di ferro fra due persone che continuano sempre a stuzzicarsi in qualche modo avere questa rivalità avere e usare il pugno di ferro agire con metodi decisi energici severi e intransigenti avere il pugno di ferro o usare il pugno di ferro il vecchio preside della scuola usava il pugno di ferro vuol dire che era uno molto severo era molto deciso e non e non una tolleranza diciamo zero con appunto gli allievi e con gli insegnanti eccetera eccetera avere una salute di ferro avere un'ottima salute salute di ferro è come la memoria di ferro qualcosa che comunque è resistente che è forte che non si fa diciamo intaccare da niente avere un'ottima salute l'esempio mia nonna sempre la stessa nonna ovviamente che che aveva una memoria di ferro di prima ma si dice la mia mia nonna non si è mai ammalata a una salute di ferro o ha sempre avuto una salute di ferro visto che non si è mai ammalata a 90 anni e a una memoria di ferro anche una salute di ferro bene per la nonna avere i nervi d'acciaio avere i nervi d'acciaio significa essere in grado di mantenere la calma e il controllo di sé nelle situazioni difficili o di pericolo ed è l'esempio tipico della foto che vediamo qua sopra per entrare nei vigili del fuoco devi avere i nervi d'acciaio sì significa devi essere anche forte devi essere uno deciso ma deve essere anche qualcuno che una persona che riesce a mantenere la calma anche nei momenti più difficili anche nelle situazioni di pericolo non devi far non devi aver paura ovviamente del fuoco degli incidenti della delle delle situazioni che non sono favorevoli al lavoro all'attività anche di di aiuto di recupero del del negli incidenti o nelle situazioni particolari quindi i nervi d'acciaio è una questione di fisica ma anche psicologica andare con i piedi di piombo agire con estrema prudenza senza correre rischi chi ha i piedi di piombo ovviamente cammina molto lentamente quindi non è una persona che corre non è una persona che metaforicamente ecco corre ma controlla che tutto sia preciso giusto analizza prima di soprattutto di spendere soldi l'esempio è giusto quando si tratta di soldi luca va sempre con i piedi di piombo quindi una persona attenta metodica razionale che non spreca soldi che non butta soldi ma prima analizza il il da farsi gli anni di piombo in italia è il periodo storico fra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni ottanta caratterizzato dall'estremismo politico la lotta armata e il terrorismo ovviamente un periodo buio dell'italia ci sono stati svariati periodi buli dell'italia ma quello più vicino a noi diciamo così dove ci sono stati centinaia migliaia di vittime ovviamente del terrorismo dell'estremismo politico di situazioni ovviamente che speriamo non ritornino più e anche un po senza senso è abbia studiare un po la storia però sono persone anni veramente tristi ecco anche le guerre sono brutte però ripeto questi anni sessanta ottanta sono molto più vicini a noi come periodo e alcuni di noi ovviamente quelli che li hanno vissuti se ne ricordano bene però a parte questo il modo di dire gli anni di piombo identifica esattamente quel periodo dagli anni sessanta alla metà degli anni ottanta all'incirca e l'esempio è durante gli anni di piombo l'italia è stata colpita da molti attentati ovviamente si dice di piombo perché il piombo delle 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 pallottole delle delle pallottole delle delle pallottole delle pistole dei fucili eccetera eccetera quindi delle armi in qualche modo gli anni delle armi gli anni del piombo delle armi delle pallottole faccia di bronzo se è una bella faccia di bronzo è una persona sfrontata spudorata senza vergogna una persona che appunto non ha problemi a essere diciamo in qualche modo avere la faccia di bronzo ecco forse il modo più facile per descriverlo è ritornare esattamente sulla sull'espressione idiomatica l'esempio dall'esempio si capisce dopo che mi hai rotto la macchina dopo che scusate dopo che mi ha rotto la macchina ha avuto il coraggio di chiedermi se gliela presto di nuovo ha proprio la faccia di bronzo quindi è una persona sfrontata una persona che mi ha rotto la macchina e me la chiede di nuovo non me l'ha pagata ho dovuto pagare i danni io e mi chiede di nuovo la macchina in prestito ha proprio la faccia di bronzo bene la lezione con la faccia di bronzo la lezione termina qui siete delle belle facce di bronzo no siete simpaticissimi siete bravissimi vi ringrazio sempre per i vostri commenti spero che la lezione vi sia piaciuta c'erano molte espressioni idiomatiche con i metalli come sempre vi chiedo un like e un seguimi iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale e lo ripeto la terza volta perché forse nelle lezioni precedenti lo dicevo sempre troppo poco iscrivetevi al canale è semplicissimo c'è solo una lezione alla settimana e poi nient'altro quindi una lezione di 15 20 minuti mi ascoltate la riascoltate quando volete italiano per tutti siamo ovviamente su tutti i social e vi ricordo sempre di iscrivervi all'ultimo social che non ho neanche forse messo ancora in elenco che è telegram dove vedrete che vi compaiono continuamente dei messaggi delle slide in italiano per imparare sempre qualcosa qualche parola in più che sono tutti relativi alle nostre lezioni che abbiamo fatto fino ad oggi ci sono 324 lezioni prima di questa quando mi chiedete qualcosa molto spesso amici io vi dico andate a vedere alla lezione perché abbiamo già parlato di qualsiasi tipo di argomento vi ringrazio vi saluto e ci vediamo nella prossima lezione di italiano per tutti ciao ciao